Sì, è una grande opportunità, è possibile sottoporsi al test per l'epatite C alla festa del perdono a Terra Nuova, in via all'Europa all'altezza del distributore ESSO. Questo grazie alla disponibilità dell'amministrazione comunale di Terra Nuova e dei volontari della Misericordia. È un test rapido, semplice, una semplice puntura di un dito, gratuito e la risposta è immediata. In caso di positività, il medico di famiglia farà fare un prelievo di conferma e poi, se confermato, una visita in malattie infettive per il trattamento. Esiste una terapia efficace che è risolutiva nel 98% dei casi, è ben tollerata e di breve durata. Abbiamo la possibilità di debellare questa malattia, l'epatite C, anche in assenza di un vaccino. Addirittura l'Organizzazione Mondiale della Sanità mira ad eliminarla entro il 2030. Quindi chiediamo a tutti i cittadini di età compresa dai 34 ai 54 anni di sottoporsi al test rapido per l'epatite C nella postazione della Misericordia alla festa del perdono di Terra Nuova.